Ciao creatura, io sono Eka e Splendente e benvenuta, bentornata nel regno di Corai, A-S-M-A. Premetto che prossimamente arriveranno le nuove puntate della Visual Novel che abbiamo iniziato insieme l'anno scorso, ma ora guardiamo un altro gioco che mi ispirava parecchio, mi sembrava divertente lavorare insieme a te. Allora, l'uno è da un anno, padre, Lorenz, è da 27, giusto? Non riesco a leggere da qua. Sì, e Lucy è la madre, è sempre 27 anni. Ok, allora, accento di salute, creatività zero, ricchezza zero ovviamente, felicità 75, intelletto zero, forza zero. Allora, gattona tantissimo, mordi di tutto, piangi, perdi fiato, lecca di tutto. Allora, facciamo, gattona tantissimo. Ogni scelta influenza la vita di un personaggio, in qualche modo, questo ad esempio, dà all'una 5 punti fisico in più, ok? Vuoi giocare con mamma, giocare con papà, giocare con i giocattoli, giocare con attrezzi, giocare con attrezzi, non perché è verde e mi attira, giocare con attrezzi, ha migliorato la sua creatività, ok? Usa il vasino, piangi per vedere i cartoni, arrampicati, fai versi rumorosi. Allora, vorrei, o... allora sicuramente non piangi per vedere i cartoni, o usa il vasino, o arrampicati. Ammettiamo, usa il vasino. Le varie prove con il vasino le hanno potenziato l'intelletto, anche se i fallimenti che ha comportato l'hanno rattristata un po'. Vabbè, ma i fallimenti servono. Fiondati nell'armadio di papà. Gioca con il cane, gioca con i mattoncini, segui mamma. Non lo so. Fiondati nell'armadio di papà. Ma si, via. Seminare il disordine nell'armadio di papà ha fatto arrabbiare lui, ma lei si è divertita. Vabbè, che se ne frega. Ok, abbiamo cinque anni. Guarda troppi cartoni, disegna, tratta altri bambini gentilmente, gioca da sola, disegno. Erano solo uomini stilizzati, ma le abilità ne beneficiano. Ok. Indossa pantaloni. Abbiamo sei anni. Indossa pantaloncini, indossa coni, indossa jeans. 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 Luna adorava indossare jeans. È bello poter scegliere cosa mettere. Abbiamo sette anni. Fatti degli amici. Impara a memoria una canzone, gioco da sola, stai con i genitori. Fatti degli amici. A sette anni inizio a trovarsi degli amici, i suoi genitori ne erano compiaciuti. Abbaia con il cane. Coccola il gatto. Beh, cattura farfalle, dai la caccia alle rane, coccola il gatto, ovviamente. La presenza del gatto l'ha confortato, è stato molto rilassante. Studia a sodo. Apri di nascosto il laptop di papà. Rassetta la stanza, provi rossetti di mamma. Studia a sodo. Le ha costato in salute, ma ha potenziato il suo intelletto, ha anche compiaciuto i suoi genitori. Scrivi per il giornale scolastico, entra nel club di scacchi, prova il canto gutturale. Sì, voglio quello. Voglio questo. Ok. Papà si è divertito tantissimo ad ascoltarla, ma il canto gutturale le ha danneggiato lievemente i ricordi vocali. Ups. Vabbè, l'ho fatto. Undici anni. Scorri i twitti. Apri Wikipod. Scorri Tik Tok. Scorri Farsa Book. Wikipod. Le voci di Wikipod le hanno insegnato molte cose, ma star seduta così a lungo ha pesato un po' sui muscoli. Beh, allora abbiamo dodici anni. Vendi biscotti per beneficenza. Prepara la cena. Partecipa a un pigiama party. Partecipa a una gara di disegno. Allora, vorrei o preparare la cena o partecipa ad un pigiama party. Allora, siamo un po' giù di intercambi. Di forza non abbiamo niente. Ricchezza, vabbè, creatività. Ma sì, pigiama party. Abbiamo dodici anni. Una folla inottata di lotte, di cuscini e balli si è divertita tantissimo. Ah, siamo andati anche su quella forza. È data di dici anni. Partecipa a un'audizione di calcio, mangia cibo spassatura, fai le ore piccole, fai esercizio fisico. Non mi piace niente. So che ce ne pentiremo. Dovrei fare esercizio fisico, ma dobbiamo guardarci un video di pubblicità. Tredici anni, mangia cibo spassatura. Ma sì, vai. Sono un po' brodo. E sapevo che andavo a mangiare tutto. Allora, mangiare quel cibo ha influenzato negativamente la sua salute. E vabbè, la recupereremo. Quattro dici anni. Unisciti alla squadra di dibattito. Prova il parkour. Modella la creta. Cingisca. Modella la creta. Sì, mi piace. Allora. No, che male. A causa della poca creatività, i suoi modelli erano terribili. Ogni scelta influenza in maniera differente. Aiuta un personaggio a seconda del livello delle abilità. Aiuta un anziano. Taccheggia un negozio. Pulissa un nerd. Aiuta un bambino diversamente abile. Questa buona azione le guadagna karma positivo e l'approvazione dei genitori. Marina la scuola. Pulisci il retro. Aiuta a lavare i piatti. E vinci di studiare. Le sedici anni io, se fossi me, vinci di studiare. Ma faremo... Aiuta a lavare i piatti. Hai aiutato i genitori come poteva. Questo le ha guadagnato karma positivo e l'approvazione dei genitori. Allena, ti studia matematica, studia geografia, legge e fumetti. Allora, visto che siamo carenti in matematica, in realtà anche in geografia, ma studiamo matematica che può servirci. Mi è piaciuto da morire risolvere problemi matematici. Proprio, non sono io. E le ha potenziato l'intelletto. Beh, quello ci serviva. Poi, ai 18 anni, fai domanda a Princeton. Fai domanda a Harvard. Fai domanda al MIT. Fai domanda a Stanford. Io non le conosco, quindi... Boh, mi piace la parola Stanford, quindi faremo lì, sperando che non incasiniamo qualcosa. Ah, ok. Fu ammessa a Stanford, il che le cambiò completamente la vita. Iniziò a studiare business, laureandosi con l'Ode a 22 anni. Ma scusa. E fu assunta da una grande azienda, finché il capo Violet non la cacciò ingiustamente. Mannaggia. Senti la mia lingua, che rumore fa? Ho scoperto adesso che se passo i denti sulla lingua fa questo suono. Vabbè, non so se si sente. Allora, questo è quanto. E cos'è successo ad unicopoli? Invece, troppe cose, ma in breve se ne sono andati tutti verso città più grandi. Non posso accettare che questo adorabile cittadino sia morto. Forza, rimettiamola in sesto insieme. Che bella idea. Io aiuterò a costruire. Che emozione, ma riusciremo a ripopolarla. Eh, ma per quello. Ma certo, sì, eh, ma inizio a fare pubblicità. Inizio a fare figli. Ok, allora. Premi su queste cornici per far arrivare nuovi abitanti a unicopoli. Ah, basta, basta schiacciare lì. Ok. Inizia, storia. Con personaggio prestabilito. Storie uniche. Completa. Missioni. Storia. Gioca. Obiettivi. Libera. Crea il tuo personaggio. Gioco libero. Senza storia. Nessuna missione specifica. Modità. Novi. Brutto. Senza le missioni. Non so cosa fare. Andiamo alla storia. Allora c'è il sogno di Miriana. Il più grande sogno di Miriana è quello di andare nello spazio. Purtroppo però è di famiglia indigente. Nessuno sopporta le sue ambizioni. Oppure. La vedetta di Jerry. Il padre di Jerry fu ucciso da un gruppo di furfanti prima della sua nascita. Jerry Scotti vuole diventare poliziotto per ottenere giustizia per suo padre. La stregoneria di Amelia. Io voglio avere questo, ma è bloccato. Ovviamente. Amelia fu maledetta. Ma lo faremo. Amelia fu maledetta da una strega mentre sua madre l'aveva in grimbo. gioca la sua storia per vederla aprirsi ai suoi poteri magici e governare un culto. Scusa, ma io voglio questo. Poi. Il dilemma di un hacker. Natta in un carcere. Madonna che storia. Tiziana vuole continuare ciò che sua madre ha lasciato in compiuto ma vuole farlo senza sporcarsi le mani. Così diventerà un hacker. Soldi facili. A Giasone non piace lavorare e vuole fare soldi facili. Ma davvero ci riuscirà così facilmente? Non mi ispira questo. Allora. Vabbè, iniziamo con la prima. Allora, il sogno di Miriana. Allora. Iniziamolo. Allora, il tuo personaggio è un bambino. Cresci effettuando una delle quattro scelte per anno. Ciascuno avrà effetti determinanti sulla vita del personaggio. Allora, il sogno di questa persona è diventare astronauta. Quindi dobbiamo farla diventare forte. Costruisci un castello di sabbia. Dipingi usando il gelato. Gioco con il gatto del vicino. Vomita i broccoli. Allora, non c'entra niente con la storia, però gioco con il gatto del vicino. Ecco, sapevo che facevo dei danni. Hai morsi e graffi ovunque, ma è stato divertente davvero. Siamo anche diventati un po' più intelligenti, un po' più forti. Allora, il sogno di Miriana. Il più grande sogno di Miriana è quello di andare nello spazio. Purtroppo, però, è di famiglia indigente. Nessuno supporta le sue capizioni. Diventa un astronauta. Vai su Marte. Incontra gli alieni. Allora. Due anni. Tirare in tondo veloce ci può acquisire qualcosa. No? Io provo. Ecco, come l'ho detto. Hai perso l'equilibrio che ha detto a terra, però è stato proprio divertente. Poi, tre anni. Strappa delle banconote. Conta le macchine in strada. Mangia un insetto. Salta tutto un libro. Contiamo? Sì, forse ci può dare... Non lo so cosa. Dell'intelletto. Un ottimo esercizio mentale. Rompe il castello. Giocattolo di un amico. Gli spezzano la cucina. Spindono un bambino. Ruba biscotti. Beh, spezzano la cucina. Non so cosa sia, ma facciamo quello. Perché gli altri ci porterebbero sicuramente dei danni. E noi vogliamo essere positive. Allora. Hai trovato degli snack nascosti e ne hai banchettato. Tua madre era esterefatta nel vedere come hai ridotto la cucina e sei arrabbiata con te. Eh, vabbè. Allora. Gli amici ti invitano a un appuntamento giochi. Chi hai giocato li porti? Abbiamo cinque anni. Cicciopello, Little Pony, macchine, astronavi e astronauti. Scusa, ma è da chiedere. Astronavi e astronauti. Non sono piaciuti a nessuno, ma te hanno divertito. Anche giocando in solitaria. Hai immaginato un viaggio in cui raggiungevano Marte e incontravano gli alieni. Ok. Missioni. Effetto una scelta dilemma. Allora, devi completare questi obiettivi per guadagnare punti vita, dopodiché usa i punti per sbloccare case più grandi. Allora, ok. Premi su riscatto accanto agli obiettivi completati per ottenere le ricompense e avrai sempre tre obiettivi attivi. Ok. Vita. Effetto una scelta dilemma. più dieci. Allora, abbiamo cinque anni. Ruba dolci dalla cucina, colleziona sassi. Dai la caccia a una lucertura, impara uno scenilingua. Collezioniamo sassi. Allora, se vuoi un set di scelte diverso da quello attuale, premi il pulsante e ricarica nel mezzo. Allora, ci sono moltissime opzioni in aggiunta alle quattro iniziali. Lo so, ma spendiamo diamanti che potrebbero servirci. Mentre tutti giocano con i giocattoli, tu guardi il cielo, i sogni e lo spazio. Allora, a sei anni, gioca con gli slime, il pavimento e lava. Vende limonata, installa TikTok. Allora, secondo me vendendo limonata si fanno molti più soldi. Siccome abbiamo visto che la sua famiglia, allora ci servono i soldi. Che bello guadagnare qualche soldo. Perfetto. Missioni. In questa pagina potrai controllare le missioni ed il riassunto della storia di questo personaggio. Ok. Allora abbiamo come missione raggiungi i 18 anni, rispondi correttamente a tranquillità e compra una decorazione. Ok. Sette anni, leggi i fumetti, entra nel coro scolastico, leggi libri sull'astronomia, ti parolacce. Beh, leggi libri sull'astronomia. La tua famiglia è troppo povera per permettersi libri, ma ne hai preso uno dalla biblioteca. Abbiamo fatto un sacco di punti. Poi, 8 anni, chiedi un telescopio ai tuoi. Non ce lo regaleranno mai. Chiedi un orologio costoso, taglia il prato, entra in un circolo di gossip. Allora, secondo me se tagliamo il prato ci pagano. E a noi secondo me i soldi ci servono. Chiedi un telescopio ai tuoi. Secondo me non me lo comprano, quindi non lo chiedo neanche. E l'orologio lo anche no. E gossip non ci interessa, quindi io taglierei il prato. Ti ho fruttato un bel extra sulla paghetta, ma quell'odore di erba tagliata ti fa venire i conati. Ma a me non importa. Penso che possiamo supportare i conati. Noi andremo nello spazio. 9 anni, fai un dolce usando un libro di ricette. Chiedi un set costoso di mattoncini, non ci interessa. Cattura una farfalla, chiedi un telescopio ai tuoi. Non ce lo regalano, secondo me. Quindi fai un dolce usando un libro di ricette. Hai di certo migliorato le tue abilità in cucina, ma il caos che ne è derivato è qualcosa che la mamma non ha apprezzato per nulla. Vabbè, sti cavolo. Allora, la maestra ti chiede qual è il tuo pianeta preferito? Marte, Saturno, Goroth 98. Marte, ovviamente. La maestra dice che sarai forte come Marte. Sabato, sabato. Il compleanno di un'amica, fai la spia su un compagno di classe, lancia il gesso alla maestra, arrampicati su un albero. Allora, non mi piace nessuno di questi. Farò arrampicati su un albero e ci guarderemo un video, un'altra pubblicità. No, hai rotto una gamba cadendo, ti sarò un'abilità migliore per certe cose. Ma tutte le altre portavano cose brutte, quindi colora le pietre, limita uso del telemono. Prova lo stilemo. Chiedi un telescopio di voi. Allora, non so se abbastanza un 70% per chiedere il telescopio, ma continuano a propormelo. Quindi, allora, se facciamo proprio lo stilemo, secondo me, i miei genitori non sono contenti. Potremmo limitare l'uso del telefono. L'hai trovato deprimente, ma il cervello la pensa diversamente. Vai a ballare. Abbiamo 12 anni. Ballare, no. Ascolta musica tutto il giorno. Impegnati con i compiti. Chiedi un telescopio di voi. Allora, secondo me, se chiediamo un telescopio, la nostra felicità potrebbe alzarsi. Oppure, se ci dicono di no, potrebbe anche abbassarsi un sacco. Non lo so. Se mi impegno con i compiti, vado su di intelletto, ma di felicità penso che vado giù. Qui sono già 25. Allora, se dobbiamo alzare la felicità, penso che vai a ballare. Potrebbe essere. Anche ascoltare la musica tutto il giorno. Per una volta si può anche fare, no? Proviamo. Ascolta la stessa canzone di Taylor Swim. Per 24 ore ti sei così ti ho fuso il cervello. Cavolo. Allora, chiedi un telescopio di tuoi. Sta suonando le campagne, vabbè. Incontra cantante dei sogni. Consiglia un'amica in difficoltà. Candida di come rappresentante di classe. Allora, consigliamo un'amica in difficoltà. No, dice che il tuo stupido consiglio le ha rovinato la vita. Ingrata. Maledetta. Un compagno di classe prende in giro il tuo sogno di diventare astronauta. Lo ignori nella piena convinzione che ce la farai. Giusto? Allora. Quattordici anni, fai tardi la notte, insulta un corvo. In che senso insulta un corvo? Chiedi un telescopio di tuoi, ignora i compiti. Chiediamo sto benedetto telescopio. Ecco, lo sapevo io. Non è che tu non gli piaccia. È solo che la vostra situazione economica non ve lo permette. Il che ti fa innervosire. Sto... Sono arrabbiatissimo. Sono giusto. Sono diventata un emo senza scelterlo. Hai tempo extra e puoi unirti ad un club scolastico. Club di ginnastica. Club dello spazio. Divertiti nel tempo libero. Club dello spazio. Pshu. Abbiamo recuperato un po' di felicità. Hai conosciuto degli appassionati come te. Finalmente non provi più solitudine. Missione giornaliere completata. Fa scendere la felicità di un nuovo personaggio sotto 25 punti. Ok. Missioni giornaliere. Completa una vita. Guadagna più, dice, di 1000 euro con un nuovo personaggio. Vabbè, mi sembra un po' difficile. 15 anni. Passatempo con quelli pigri. Passatempo in libreria. Scrivi un rap. Vai a un concerto pop. Passatempo in libreria. Forse, non so se saremo felici. Vediamo. Ti appareva? Shhh. Silenzio. Installa TikTok. Mi indica in strada, no? Disegno murale su una parete. Dai fuoco alle formiche, no? Ci tocca installare TikTok. Ma dopo ci impariamo a guardare il telefono. Sono molto indecisa. Allora, mi indica in strada, no? Perché non credo ne sia... Forse ci dà soldi, ma non credo che ci renda felici. Dai fuoco alle formiche, divertente. Ma dopo passiamo nel lato scuro. Forse potrebbe essere divertente, non ne ho idea. Non credo, però... Non so, per i bambini, però ha 16 anni, è grande per fare queste cose. Installa TikTok. Lo disegniamo a murales. Che verrà bruttissimo, perché di creatività abbiamo passa. Poi proviamo. Ecco. Era un terribile, qualcuno ci ha disegnato sopra. No, adesso è in depressione. Congratulazioni, l'università ti ha accettata per sbloccare le opzioni di carriera completa a 4 anni di corso. La tua toccante lettera di presentazione in cui parli di superare le difficoltà e diventare astronauta ha colpito l'università di Starfield. Hai vinto una borsa di studio e studierai nel loro Ateneo. Ma siamo stra-tristi. 17 anni, scrivi una poesia, fai capricci, aiuta un amico a copiare l'esame, bevi un sacco di latte per crescere. Bevi un sacco di latte per crescere. Proviamo. Allora, di sicuro aiuta con la crescita, ma anche a scoprire che sei intollerante all'altro. C'è venuta la diarrea, vabbè. Home. Gratis. Allora, per ravvivare la città dovremo rinnovare le case. Il primo oggetto è gratuito. Compralo subito. Allora, io farei un divano verde-acqua in modo più bello. Allora, ridecora le case per riempire la barra e ottenere ricompense, ok? Vita, torniamo lì. Raggiungi i 18 anni, fatto. Compro decorazione, fatto. Allora, riscattiamo e riscattiamo. Allora, raggiungi i 40 anni e compro due decorazioni. Home. Posso comprare altro? No, molto bene. Andiamo alla vita. 18 anni. Entra nel club scolastico dello spazio. Cerca di rallegrarti. Pubblica online la foto di un gatto. Combatti la depressione. No, io voglio entrare nel club scolastico dello spazio, che secondo me è bello. Ci darà felicità. Yeee. Vederti con i tuoi compagni di classe e parlare della vastità dello spazio è la tua attività preferita. Benissimo. Poi, 18 anni sempre, trova un lavoro part-time, prova gli esami del primo anno, fissa le stelle e tacca una celebrità sui social. Allora, secondo me trovare un lavoro ci serve perché ci sono i soldi, perché la nostra famiglia non ne ha, però probabilmente ci toglierà un sacco di felicità. Non lo so, proviamo. Ecco, lo sapevo. No, ci ha dato felicità. Mi ha tolto salute, ma perché se ne frega. Ti stessa da morire, ma aiuta la tua famiglia che ti è immensamente grata. Ok. Poi, 19 anni. Perditi nella lettura. Partecipa a una maratona di beneficenza. Fai una dieta. Guarda, ho un talk show. Allora... Direi... Ma, 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 ma... Perdiamoci nella lettura, vediamo che succede. Ma che palle! Vabbè, mille pagine al giorno, non basta comunque il tempo per quel fantasy, è certamente lunghe. Allora, vabbè, non tanto buono. Bevi caffè. Fermo una rissa di strada. Disegna personaggi cartoneschi attraverso la strada fuori dalle strisce. Disegnare un po' per avere un po' di creatività. Non so se... Secondo me però ci toglie felicità perché non siamo bravi. Se fermiamo una rissa di strada potremmo diventare più forti. Ma, secondo me, succede sicuramente qualcosa contro la nostra salute e la nostra felicità. Quindi, fermiamo una rissa, proviamo. Eh, lo sapevo. Allora, pur mettendoti in mezzo la lotta, le apprese anche te lo sapevo.